Il mondo del festival anche in versione virtuale, come stiamo? Come stiamo raccontando in questa prima parte, in questo primo semestre del 2020? Abbiamo raccontato altri festival e altri ne racconteremo nelle prossime settimane, ma adesso puntiamo la nostra attenzione sulla grande invasione che ritorna, ma ritorna in modo virtuale. E' l'unica cosa che possiamo permetterci di avere in questa situazione, ovviamente, intanto. Gian Mario Pilo, bentornato nel posto delle parole. Grazie a voi, grazie a voi e sono proprio contento di essere tornato in questo posto dove ci sono le parole che a me sono tanto care. Le parole tanto care, le parole anche e soprattutto degli ospiti dell'edizione 2020 perché gli ospiti ci saranno, ne incontreremo anche qualcuno qui nel posto delle parole prima della loro messa online, per così dire. Ecco, nonostante la gorà, la piazza, il contatto fisico, Gian Mario Pilo, ecco, sicuramente vi aspetterete qualche cosa. E finora i festival che hanno avuto questa derivazione online, mi riferisco ai dialoghi sull'uomo, mi riferisco al sonore del libro, hanno avuto delle risposte sicuramente diverse, ma delle risposte in ogni modo molto positive. Sicuramente sì, intanto noi abbiamo questa fortuna, è un traghettarci verso l'edizione live che abbiamo non annullato, ma posticipato, siamo in attesa di annunciare le nuove date che saranno tra agosto e settembre, però ci sembrava importante fare qualcosa nei giorni canonici del festival, quelli che da sette anni ci accompagnano in città. E quindi con Marco Cassini abbiamo pensato in questi TDI, anche noi, produrre contenuti da trasmettere online, la gente in questa quarantena forzata, in questo lockdown, si è abituata ad ascoltare, a vivere momenti online, e quindi anche la grande invasione si è strutturata per sei appuntamenti, nei giorni che avrebbe dovuto svolgersi il festival vero e proprio, in attesa di tornare a fare quello live, sempre nel 2020. In attesa dell'edizione dal vivo, io immagino, Gianmario Pilo, quanti festival ci saranno, e speriamo veramente nella seconda metà di quest'anno che questo quantomeno sia permesso, sarà veramente, intanto sono felice nell'avere ascoltato, Gianmario Pilo, che la grande invasione progetta un'edizione, diciamo, fisica, reale, a fine agosto, inizio settembre, cioè prima del festival letteratura di Mantua, che è quello che dà in là a tutti quanti gli altri festival. Esatto, sì, proprio così, Mantua sarà la seconda settimana di settembre, quindi magari noi verso fine agosto, nel rispetto delle regole che ci saranno, di quelle che ci sono già adesso, dovremmo abituarci comunque a gestire il flusso di persone, lo faremo, ma lo faremo rispettando le regole, ma lo faremo. Lo faremo, perché crediamo che sia importante reagire con tutto ciò che comporta reagire, quindi l'attenzione massima, il numero ridotto di persone, però un segnale forte, l'idea che ci sia la voglia di ripartire, di costruire qualcosa. Ma adesso tu mi hai chiamato per la parte online, e quindi mi sembra giusto dedicare un po' di tempo a questi sei appuntamenti. Ma certamente, quindi andiamo subito a scoprire quali sono gli ospiti che dal 29 di maggio saranno online per la grande invasione. Allora, abbiamo deciso di fare, visto che comunque la gente sì sia abituata a stare a casa, a guardare le cose, a vivere le cose online, ma è anche giusto che pian pianino riprenda a uscire. Abbiamo pensato a due appuntamenti quotidiani, dal 30 maggio al 1 giugno, con una piccola anticipazione il 29. Comunque, i due appuntamenti giornalieri saranno sempre dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17. E come nella caratteristica della grande invasione, che tutti gli anni al Festival, la mattina, la dedica a delle cosiddette lezioni, abbiamo chiamato Chiara Lessi, Silvia Bencivelli, Matteo Nucci, Luca Scarlini, Andrea Staid e Chiara Valerio. A fare cosa? Chiara Lessi, che è esperta di design, che ha vissuto questa quarantena diventando un po' un riferimento su Twitter con il suo design in pigiama, ci racconterà, eravamo io Dante e Brigitte Bardot, storie della storia Olivetti. come meglio iniziare su Ivrea. Silvia Bencivelli, invece, si stava peggio quando si stava peggio, noi e la salute pubblica. Matteo Nucci, che anche lui tutti gli anni è protagonista Ivrea, La tragedia del giovane Platone, un poeta mancato e uno scrittore da costruire. Lo stesso giorno, Luca Scarlini, Libri maledetti, storie di pagine che bruciano. Poi sarà la volta dell'antropologo Andrea Staid, Disintegrati, Migrazioni contemporanee e pandemia. E chiuderemo, così, con un po' di leggerezza, come siamo anche noi sempre abituati, con la scrittrice e matematica Chiara Valerio. Papim pam pum, eccoci qua. Ascesa e caduta di quasi tutte le rovine dei cartoni animati giapponesi che vedevo da bambina. Quindi questi sono i sei appuntamenti che, attraverso Zoom, proporremo a chi vorrà vederli. Ci sarà una formula di partecipazione anche molto interessante, perché è vero, io potrò collegarmi, però giustamente io accedo liberamente, però do il mio contributo alla cultura della grande invasione. Allora, grazie per questo approfondimento, perché proprio il primo maggio, frutto di una riflessione dei miei di Marco, abbiamo pensato di come in questo lockdown si sia beneficiato di quell'enorme e gioiosa diffusione di contenuti gratuiti dal punto di vista culturale. Scrittrici, scrittori, cantanti, attori, tutti hanno fatto e dato qualcosa. Intorno al mondo della cultura, tu lo sai meglio di me, ruotano grandi professionisti che in questo momento sono fermi, sono in difficoltà. Noi simbolicamente a questi sei docenti, per fare queste lezioni, vogliamo dare un contributo economico. Quindi abbiamo fatto sì che queste lezioni costassero una cifra simbolica, la stessa degli appuntamenti live del festival, ovvero 5 Euro. Con il ricavato di queste lezioni pagheremo i docenti e il restante, se non ci sarà, lo metterà alla grande invasione, lo devolveremo in beneficenza al centro di urno di salute mentale di Ivrea con cui da anni collaboriamo. Mi sembra un modo veramente per dare un segnale almeno forte e concreto su che direzione bisogna prendere. Il segnale forte lo dà un festival, ma il segnale forte non è sempre che lo devono dare gli altri, il segnale forte lo dobbiamo dare anche noi partecipando, dando il nostro contributo di tempo e di attenzione e anche quel contributo che ci sembra giusto indicare perché è un lavoro il festival, diciamocela tutta alla fine della storia. È un lavoro costante che comunque comporta sacrifici, impegno quindi è giusto che ci sia sempre un ritorno economico soprattutto da chi questo festival lo rende speciale ovvero chi porta i contenuti, chi porta un ridin teatrale chi porta qualsiasi altra cosa basta con questa idea che la cultura la cultura è frutto sempre di sacrificio e lavoro e quindi è giusto che venga sempre retribuita non si può ovviamente magari in questo periodo parlare di cifre meritevoli ma si può parlare di piccoli contributi necessari. Giammario Pillo, la piccola grande invasione ovviamente ritornerà con la grande invasione quella di fine agosto-settembre La piccola invasione che si è sempre caratterizzata anche per coinvolgere le scuole tornerà quella online giustamente Lucia Panzieri e Silvia Trabalza che si occupano della programmazione della piccola invasione hanno deciso con me pienamente d'accordo che i bambini e i ragazzi hanno passato quotidianamente dai 4 alle 6 ore davanti alla tv o al computer esatto quindi questa piccola invasione si farà live si farà live quando ci sarà la grande invasione e visto che probabilmente quando la faremo le scuole saranno ancora chiuse dedicheremo poi una giornata ad hoc a scuole aperte per portare i nostri contenuti è comunque un nostro impegno che manteniamo dalla prima edizione di coinvolgere sempre le scuole perché i ragazzi comunque sono i lettori del domani Giammario Pillo prima di salutarci invece qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ah che meraviglia qual è il libro che fa? qui mi cogli impreparato quanti libri hanno fatto compagnia questa volta guarda un gioco abbastanza facile perché mi sono appena comprato un fumetto un fumetto edito da Rizzoli Lizard di David Small che è l'autore di Stichis un fumetto che io consiglio ed il titolo è quando si fa buio un nuovo viaggio nell'eterna notte di un'adolescenza americana sono un grosso appassionato di fumetti considero i fumetti letteratura non esiste la letteratura di serie A di serie B David Small l'ho comprato ieri e quindi non vedo l'ora di leggerlo questo è il libro che mi accompagna in questi giorni di programmazione e lavoro tra l'altro mi hanno raccontato di questo libro proprio alcuni giorni fa Gian Mario Piccio dicendo che è un libro che in ogni modo ci dà anche delle indicazioni su quale strada percorrere per uscire da questa situazione già il titolo lo presuppone quando si fa buio però quando si fa buio si deve attendere la luce che verrà dopo e noi andremo a cercarla con la luce vero? sicuramente andremo a cercarla e intanto grazie grazie davvero Gian Mario Pilo per il tempo che ci hai dedicato grazie a voi è sempre un piacere grazie davvero